Ci stiamo preparando per la stagione estiva. Anche se mancano parecchie settimane all'inizio della bella stagione, o forse proprio per questo, il Comune sta mettendo mano a Barcola e sta intervenendo al momento all'altezza del terzo topolino. I lavori seguono più filoni, intanto verranno sostituite le scalette per la discesa mare. Lunedì partiranno, presenterà l'assessore Sandra Savino, tutti i contorni alberi, dal fine dei topolini fino al Bibio. Il Comune procede anche con l'asfaltatura della strada e forse l'intervento al momento più evidente è quello della gittata lungo le banchine dello stabilimento.